Un pellegrinaggio da Fornelli al santuario di Castel Petroso, un cammino di devozione e di fede iniziato stamattina alle 6 per concludersi, dopo un percorso a tratti reso accidentato dalla pendenza, intorno alle 4 del pomeriggio. Tante le persone in età matura, per loro e per i diversi giovani in pellegrinaggio, per dieci ore complessive indispensabile qualche pausa di riposo e ristoro. Noi abbiamo raccolto la testimonianza di uno tra loro. C'è un pellegrinaggio che comunque è cominciato già dalle prime apparizioni. Prima era un pellegrinaggio comunque all'inizio di persone così singole e poi si sono mano a mano negli anni, si sono unite facendo la compagnia. Solito all'arrivo arriviamo sempre sulle due, trecento persone. Quest'anno siamo molto di meno perché molti vanno ad accompagnare Monsignor Palumbo a Trivento, quindi hanno fatto i pullman per andare a Trivento, quindi verranno forse a fare la nottata soltanto. Interessante notare nella caromana dei fedeli che ci sono persone di una certa età ma anche tanti giovani. Sì, devo dire che a Fornelli partecipano molto i giovani, i ragazzi, è una cosa molto sentita, anche perché Fornelli fa vari pellegrinaggi, San Domenico, la Madonna di Vallisbona, San Cosme e Damiano, Castelpetroso e quindi sono abituati al cammino.